Nella nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e nell'universo, ci, sono più di 100 miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile. Fin dall'antichità, l'umanità si è posta alla domanda sull'esistenza di altre vite, sin dai tempi di Epicuro, di Plutarco, di Lucrezio Caro. Oggi possiamo dire perlomeno che esistono pianeti extrasolari. La loro esistenza è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l'esistenza di altre forme di vita. Il Sole ha 5 miliardi di anni e si valuta che resterà invariato, cioè irraggerà la stessa quantità di energia, per circa altri 5 miliardi di anni e quindi la Terra potrà ospitare la vita, se non ci distruggiamo prima, per altri 5 miliardi di anni. L'idea di un Dio impersonale sarà più accettabile per la ragione, ma è pur sempre una scappatoia per spiegare quello che la scienza non sa ancora spiegare. Penso che il cervello sia l'anima, non credo alla vita dopo la morte e tantomeno a un paradiso in versione condominiale, dove reincontrare amici, nemici, parenti, conoscenti. Anche essere atei, come essere credenti, è una fede perché io non posso dimostrare né che Dio c'è né che non c'è. Io non credo perché non mi soddisfa l'idea di Dio, non posso pretendere di dimostrare che Dio non c'è. A me sembra assurda l'idea di Dio perché mi sembra infantile, ma questa è un'opinione personale. Gli animali sono creature di questa terra, sono nostri fratelli e quindi non è che si devono considerare oggetti a nostra disposizione. Sono esseri viventi che hanno capacità di amare e di soffrire e quindi dobbiamo trattarli proprio come fratelli, come fratelli minori. La Chiesa sembra ritenere che solo chi crede possieda un'etica, che non possa esistere un'etica laica o, ancor meno, un'etica atea. L'etica laica è in particolare l'etica degli atei, che non credono in nessuna entità superiore non meglio definita, ma solo nel dato di fatto dell'esistenza della materia che origina le strutture presenti nell'universo, da cui si originano anche gli esseri viventi, dai più semplici ai più complessi, si basa sul rispetto del prossimo, uomo o animale, che sia e può essere riassunta dai comandamenti di Cristo, che certo non era figlio di Dio, ma una delle più grandi figure dell'umanità, che ha preceduto i suoi tempi di molti secoli. Ama il prossimo tuo come te stesso e non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. La spiritualità, per una come me che non crede in Dio, all'anima, all'aldilà, sta nella capacità di amare e comprendere gli altri, uomini e animali, di non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Dal punto di vista etico, è straziante pensare a quali sofferenze sono sottoposti questi animali, vere macchine da carne, allevati per ingrassare rapidamente, per riprodursi rapidamente in condizioni di sovraffollamento, per soddisfare la gola dell'animale uomo che si crede padrone di tutte le altre specie, quando invece è possibilissimo vivere senza carne. La disobbedienza civile è necessaria quando le leggi sono contro la democrazia e la libertà. Perché la Terra dovrebbe ospitare l'unica forma di vita intelligente? Presumibilmente esistono altri esseri anche all'interno della nostra galassia, magari civiltà più evolute o che ci hanno preceduti. È assurdo pensare che non ci siano altre forme di vita all'interno della galassia, o si è credenti e si ritiene che la Terra sia stata creata apposta per l'essere umano, oppure si è atei e ci si affida alla ragione e al calcolo delle probabilità. Le distanze sono talmente enormi che è praticamente impossibile che avvenga un contatto. Bisognerebbe superare la velocità della luce. Le conquiste sociali fatte sotto il fascismo oggi c'è le sogniamo, il che è tutto dire. Non si trattava solo dei treni in orario, assegni familiari per i figli a carico, borse di studio per dare opportunità anche ai meno abbienti, bonifiche dei territori, edilizia sociale. Questo perché solo dieci anni prima Mussolini era in realtà un socialista marxista e massimalista che si portò con sé il senso del sociale, del popolo. Il divertimento della ricerca scientifica è anche trovare sempre altre frontiere da superare, costruire mezzi più potenti di indagine, teorie più complesse, cercare sempre di progredire pur sapendo che probabilmente ci si avvicinerà sempre di più a comprendere la realtà senza arrivare mai a capirla completamente. La scelta vegetariana non è solo determinata dal rifiuto di uccidere, ma è anche quella più salutare ed economicamente più vantaggiosa perché si sfamano molte più persone direttamente con i prodotti della Terra che non con gigi animali nutriti con questi prodotti. Tutta la materia di cui siamo fatti noi l'hanno costruita le stelle, tutti gli elementi dall'idrogeno all'uranio sono stati fatti nelle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove, cioè queste stelle molto più grosse del Sole che alla fine della loro vita esplodono e sparpagliano nello spazio il risultano di tutte le reazioni nucleari avvenute al loro interno, per cui noi siamo veramente figli delle stelle. Nel nostro paese quando si deve tagliare si tagliano la cultura e la ricerca ritenute evidentemente un inutile lusso. Innovazione significa immaginare nuovi modi di produrre le stesse cose a minor costo oppure inventare nuovi prodotti dai più complessi ai più semplici che in qualche maniera facilitino la nostra vita quotidiana in casa o sul lavoro o macchine o utensili più facili da usare di quelli esistenti o creare marchi ingegni e renderli indispensabili. L'innovazione è frutto della tecnologia e la tecnologia è frutto della ricerca applicata la quale a sua volta deriva dalla ricerca di base la ricerca cioè che non si pone problemi di applicazioni pratiche ma si occupa solo di scoprire le leggi che regolano l'universo il nostro pianeta il nostro corpo la ricerca che soddisfa la curiosità e insegue la conoscenza per la conoscenza credo che che uccidere qualsiasi creatura vivente sia un po' come uccidere noi stessi e non vedo differenze tra il dolore di un animale e quello di un essere umano la colpa di Eva è stata quella di voler conoscere sperimentare indagare con le proprie forze le leggi che regolano l'universo la terra il proprio corpo di rifiutare l'insegnamento calato dall'alto in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede